La funzione Browse & Share permette di trasferire la navigazione dal dispositivo mobile, smartphone o tablet al televisore Smart Viera e viceversa in qualsiasi momento. La funzione è accessibile dal programma Viera Remote cliccando sull'icona Browser. Il programma Viera Remote è disponibile gratuitamente nel market Android e App Store di Apple. Digitiamo l'indirizzo dalla pagina web nella quale vogliamo navigare e attendiamo il caricamento. Ora è possibile trasferire la navigazione al TV tenendo cliccato lo schermo e trascinando la pagina nella parte superiore dello schermo stesso. Il televisore riceverà il link dallo smartphone e dopo aver aperto il browser web integrato caricherà la pagina permettendo una visualizzazione in grande che consente anche a più persone di vedere contemporaneamente i contenuti visualizzati. Un'altra possibilità per trasferire la pagina al televisore, disponibile unicamente per dispositivi Android, si ottiene navigando col browser dello stesso smartphone o tablet. È sufficiente entrare nel menu e condividere la pagina con l'applicazione Viera Remote che compare nell'elenco. È possibile anche trasferire la pagina dal TV allo smartphone per continuare la navigazione in mobilità. Se il televisore infatti sta visualizzando una pagina web, dal Viera Remote, tenendo cliccato e trascinando nella parte inferiore, trasferiremo la pagina dal TV al dispositivo mobile. Grazie. Grazie a tutti.